Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. Eccoci arrivati ad un aggiornamento importante di Studio One, il 5.1. In questa nuova versione troviamo non soltanto una serie di backfixing, ma anche e soprattutto delle nuove features. Esattamente ne abbiamo 10. La prima, la più evidente, è quello dello score printing, ossia possiamo ora, oltre che utilizzare lo score view, quindi guardare le nostre partiture, possiamo ora anche iniziare ad impaginarle e a stamparle. Come vediamo è molto elegante sia l'impaginazione sia la grafica e la possibilità appunto di stampare le partiture in maniera più corretta. Era una delle feature richieste dagli utenti di Studio One ed eccola integrata nella nuova versione 5.1. Troviamo infatti nello score non soltanto l'impaginazione ma anche la possibilità di scegliere il pulsante di stampa direttamente in pdf sotto sx della partitura e quindi l'esportazione della partitura in maniera molto molto rapida. Altra feature integrata è quella del retrospective recording o registrazione retrospettiva. Era anche questa una delle feature più richieste dagli utenti di Studio One all'interno del forum ed è ora possibile utilizzarla nella fase di recording. Il retrospective recording cattura ogni cosa mentre noi stiamo suonando sulla tastiera o sul controller anche quando non abbiamo schiacciato il pulsante di record. È un sistema molto bello per poter registrare e avere anche memoria di quello che noi abbiamo fatto nel caso avessimo trovato un'idea per il nostro brano, per la nostra produzione e ci siamo dimenticati di spingere il record. Il sistema lavora invisibilmente sotto in background. Facciamo ad esempio una traccia instrument, assegniamola ad un instrument, accendiamo il nostro instrument e proviamo a scrivere una linea senza registrare. Non abbiamo schiacciato record, premiamo shift record e la nostra traccia appare come se noi l'avessimo già registrata ed è pronta per essere editata all'interno del nostro key editor o dello score view. Per cui con questo sistema non perderemo mai più le nostre performance mentre stiamo studiando le parti o mentre stiamo scrivendo il nostro brano. Il retrospective lavora con qualsiasi messaggio in arrivo quindi non soltanto le note ma anche quindi tutti i controllers e tutte le automazioni che vengono programmate con i controllers. La terza feature che è stata introdotta è il Powerful Track Channel Search and Filter, ossia un sistema di ricerca e filtraggio sui canali e quindi sulle tracce che noi possiamo avere all'interno di Studio One. Nella Track List Channel ad esempio troviamo ora infatti sotto la sezione Filtri e Search. possiamo quindi già da qui all'interno del nostro Track List scegliere di vedere nell'arrangiamento come avviene già nel mixer soltanto le tracce audio e gli instruments o i folders o ovviamente le automation tracks. Quindi qua possiamo accendere e spegnere direttamente ed avere quindi un arrangiamento più pulito come già avveniva all'interno del nostro mixer. Nel filter possiamo cercare le tracce che ci servono. Magari stiamo lavorando su arrangiamenti con centinaia di tracce abbiamo bisogno soltanto di quelle del kick. Scriviamo kick e vengono evidenziate soltanto le tracce kick all'interno dell'arrangiamento. Per me veramente tanto tanto utile. Quarta feature il Bypass Option per il Clip Gain Envelope ossia ogni volta che noi utilizziamo il nostro Clip Gain qui in fondo abbiamo ora la possibilità di bypassarlo con un pulsante. Quindi volendo non ascoltarlo e quindi ascoltare il pre e post Clip Gain possiamo accenderlo e spegnerlo facilmente. Quinta feature il Combined Time Key Signature Track. Questa è anche un'altra feature molto molto richiesta dagli utenti del forum di Studio One ed è qui in alto la vediamo con questo simbolo oppure allargando l'arrangiamento comparirà questa volta un nuovo simbolo che è la Signature Track e la Secondary Rules. La Signature Track ci permette appunto di vedere ora una traccia relativa alla suddivisione del tempo all'interno dell'arrangiamento. Possiamo appunto aggiungere dei cambiamenti di tempo molto più visibili all'interno dell'arrangiamento e spostarli o modificarli velocemente. Collegato a questo sistema troviamo come abbiamo detto la Secondary Rules ossia una seconda linea che possiamo scegliere di avere in visione per i secondi per i samples o per i frames se stiamo lavorando su un video e possiamo quindi avere a disposizione anche quindi una seconda riga per la suddivisione e per lo snap. Settima nuova feature è la Global Track in Editors. A questo sistema è collegato ovviamente quello che abbiamo visto prima il simbolo della Global Track in questo caso da qui possiamo scegliere quindi possiamo anche restringere più possibile la nostra Track View e avere la possibilità di tornare poi nell'opzione e accensione delle varie rules direttamente qui nella Global Track Visibility. Ottava nuova feature è l'External Instrument Support on Show Page. Quando ci troviamo nella Show Page possiamo ora aggiungere degli strumenti esterni al Virtual Instrument Player e quindi anche dei Program Change addizionali o parametri di Bank Change nella Patch Column, nella colonna delle Patch. Come vediamo aggiungendo uno strumento virtuale possiamo ora inviare i messaggi anche agli strumenti esterni quindi non soltanto ai Virtual Instruments. Un aggiornamento è stato introdotto anche per Umpire quindi un aggiornamento della pedaliera di Umpire. All'interno di Umpire infatti cliccando nel Selection Menu quindi nel menu degli effetti troviamo due nuovi pedali, nel caso specifico Compressor e Gate molto utili per la creazione delle nostre pedalboard e quindi fondamentali mentre prima eravamo costretti ad usare un plugin di compressione. Pedalboard poi come vi ricordo può essere caricata anche come effetto esterno rispetto ad Umpire per essere applicata appunto all'interno delle nostre tracce audio senza la simulazione degli amplificatori. Ultima feature è quella di un'integrazione più completa con il controller Atom dove questa volta sono stati aggiunti quattro banchi di assegnazione degli encoders quattro banchi per l'assegnazione dei pad, le scale nel sistema keyboard mode e l'Open Note FX Editor Option e il Replace Instrument Option direttamente richiamabili dall'Atom. Altri piccolissimi cambiamenti sono stati fatti alla Rack Instrument dove ora possiamo avere una visione più compatta dello strumento o una versione più estesa dove poter vedere direttamente alcune informazioni supplementari nella Instrument Rack nel caso specifico abbiamo anche un LED di indicazione del volume in uscita comodo per vedere quali sono gli instrument nella Instrument Rack che sono coinvolti nell'arrangiamento e quali no, non stanno suonando. Chi possiede Melodyne 5 potrà ora trasportare la Signature Detection quindi il Melodyne sarà in grado di interpretare anche il cambiamento temporale all'interno del file e trasferirlo direttamente nella traccia Signature. Infatti cliccando sull'evento sezione audio troviamo Extract Key Signature from Event quindi o estrai i cambiamenti di chiave dall'evento. Per chi utilizza i layer troviamo invece ora la possibilità di scegliere il nome direttamente qui all'interno del layer senza aver visto soltanto layer 1, 2, 3 e 4. All'interno del browser è stato aggiunto un Search Field in maniera che ora possiamo cercare molto più velocemente i nostri files o loop o tracce in maniera rapida all'interno di tutte le sezioni. Queste sono le nuove feature di Studio One 5.1 verranno aggiunte tantissime altre feature nelle prossime release per cui rimanete sintonizzati non dimenticate di iscrivervi al nostro gruppo Facebook di Studio One Studio One Pro Italy per ricevere assistenza da me o da altri utenti e dove poter scambiare opinioni e idee su Studio One. Spero che questo tutorial vi sia stato utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e Music Off. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti iscrivetevi anche al canale Patreon dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao a presto!